La Rosa dei Venti, un simbolo di antica tradizione marinara, ha affascinato generazioni con la sua bellezza e il suo mistero. Rappresenta non solo un'indicazione geografica, ma anche un richiamo alla navigazione, all'avventura e alla scoperta di nuovi orizzonti. Questo simbolo è diventato una scelta popolare nell'oreficeria e nella gioielleria, trasformando la Rosa dei Venti in un dono speciale per molte occasioni. La Rosa dei Venti, con la sua distintiva forma a otto punte, è ricca di significato. Ogni punta rappresenta un punto cardinale, le quattro direzioni principali, nord, sud, est, ovest, e i quattro punti intermedi, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest. Questo simbolo evoca l'idea di orientamento, di trovare la giusta direzione nella vita e di seguire il proprio percorso interiore. Indossa un gioiello con una Rosa dei Venti per portare con te l'energia e la guida necessarie per affrontare le sfide quotidiane e raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, la Rosa dei Venti rappresenta anche il desiderio di esplorare nuovi territori e di avventurarsi in viaggi emozionanti. È un richiamo al coraggio, alla determinazione e all'apertura verso nuove esperienze. Un gioiello con una Rosa dei Venti può essere indossato come un talismano personale, che ti ricorda di affrontare le sfide con audacia e di rimanere aperto alle possibilità che la vita ti offre. Nell'oreficeria e nella gioielleria, la Rosa dei Venti è spesso rappresentata in pezzi di alta qualità, realizzati con materiali pregiati come oro, argento o platino. Può essere incorporata in una vasta gamma di gioielli, tra cui anelli, orecchini, ciondoli e braccialetti. Ogni pezzo è un'opera d'arte unica, che cattura l'attenzione con la sua eleganza e raffinatezza. La Rosa dei Venti è un dono perfetto per molte occasioni speciali. Può essere donata come regalo di compleanno per celebrare una nuova fase della vita di qualcuno o come regalo di laurea per incitare il destinatario a intraprendere un nuovo viaggio. È un regalo romantico da donare a un partner, simboleggiando l'avventura e l'amore condiviso. Inoltre, un gioiello con una Rosa dei Venti può essere un regalo di incoraggiamento per un amico o un familiare che sta affrontando una sfida, per ricordargli di rimanere forte e fiducioso. Quando doni un gioiello con una Rosa dei Venti, stai donando molto più di un semplice ornamento. Stai offrendo un simbolo di ispirazione e speranza, un ricordo tangibile che può essere indossato vicino al cuore. È un gesto che dice, sono qui per te e ti sostengo nella tua ricerca di nuove avventure e opportunità. In conclusione, la Rosa dei Venti è un simbolo potente e affascinante che ha conquistato il mondo dell'oreficeria e della gioielleria. Con il suo significato di orientamento, scoperta e avventura, un gioiello con una Rosa dei Venti diventa un regalo speciale per molte occasioni. Che tu stia cercando di ispirare qualcuno a seguire i propri sogni o desideri semplicemente donare un oggetto di bellezza intramontabile, la Rosa dei Venti è una scelta che non delude mai.